Raga, aspettate Raga, venuti dal jump Nuovo episodio, stavolta portiamo un gioco Che comunque Raga, è andato tanto di moda Slicktero io, voglio cercare di Battere il record di una persona che non batterò Mai in vita mia, ma lo voglio Battere Vediamo se Ha sfidato tutti, raga Perché non voglio arrivare No, non voglio battere il suo record, scherzavo Vai, vai Tante, tanto bottino per me Raga, a parte i scherzi, voglio arrivare a meno In top 10, oggi voglio arrivare a meno In top 10, non voglio rischiare Tanto, sempre se non mi chiudono Ecco, tipo, questo sta già provando a chiudermi Questo Stronzo sta già provando a chiudermi Certo, uno si chiama Tegolduskorvi19, cioè, tanto che Cioè Si capisce già la gente che gioca qua sopra Naturalmente, raga, voglio arrivare in top 10 Siamo a 332 Devo arrivare a meno mille Uno per arrivare in top In top 10 a meno Dunque, raga, non devo morire Sicuramente se la connessione non mi lagga come una merda schifosa Raga, dobbiamo arrivare in top 10 Prendi questi Non mi fanno schifo Naturalmente qualcuno qua Le ha cagati fuori Quanto siamo? 417, raga, mi mancano Quasi 100 No, non fa un culo Raga, dobbiamo darci una mossa qua Perché se no In top 10 non ci arriviamo oggi Raga, ma non c'è nessuno Aspettate un secondo Eh, stavo controllando un attimo la connessione, raga Perché c'è quella chiavetta Non so se la conoscete Dai, un po' mi sto già fullando Un po', sinceramente easy parlando Mi sto già fullando Talmente se trovassi qualche serpente Mi farebbe piacere Mazzassi Perché il ragazzo è girato così male? Vabbè Se trovassi un serpente piccolino Da far fuori Non mi dispiacerebbe Uh, qua c'è un sacco di roba Vado a prendere questi due Perché ma non c'è proprio nessuno? Cioè, non ho capito Tipo, sta corina e odessa Dizio che hanno 4.000 punti a testa Porca puttana Cioè, questi non li batto neanche se mi pagassero Qui qualcuno ha attivato la velocità Raga, siamo a 617 punti Possiamo farcela Possiamo farcela Possiamo tutti farcela Mamma mia raga Non ci sta nessuno da far fuori Raga, veramente non ci sta proprio nessuno Cioè, io sto girando da mezz'ora in tutta la mappa Non ho trovato nessuno da far fuori Sto girando da mezz'ora, eh Dai raga, cerchiamo di trovare qualcuno Voglio provare a fare una kill Cioè, so già come si fa Però raga, provare a fare una kill bella Dove chiudo uno dentro Prima ho fatto la partita da solo Non l'ho registrato ragazzi Cioè, ero tipo arrivato in Ah, ero undicesimo, sì Undicesimo E poi alla fine Mano chiuso Cioè, mano chiuso in due serpenti Porca troia Oh Oh, stai calmo, eh Uh, cazzo Se l'ho vista brutta raga Se l'ho vista brutta lì in mezzo La volevo vedere se riuscivo a chiudere Ma che cacchius Vieni, vieni Vieni fatta Ti faccio il culo se vieni qua Raga, io provo a chiuderlo Bastardo Sei chiuso su se stesso Oh, raga Guardate quanto ben di Dio che c'è qua C'è un buon ben di Dio Bam, bam, bam 942, raga Ci siamo quasi per Uh, come si è salvato quello Mamma mia Quello si è salvato di brutto Ma proprio di brutto si è salvato Girls Run Sterling Cazzo chiama questo Raga, coronavirus è ancora vivo Dai, non c'è nessuno con cui posso fare una kill decente Corri 19 è ancora vivo E c'ha 1064 punti Noi ne abbiamo 1045 Raga, dobbiamo arrivare in top 10 Dobbiamo arrivare in top 10 Dobbiamo arrivare in top 10 Top 10 dobbiamo arrivare Oggi punto la top 10 Poi domani punteremo la top 9 Se questo stronzo non mi Oh fratello Totò Basta che ti levi No giuro che se mi provavi a chiuderti Ti ammazzavo la sorella Ragazzi siamo mille Come? No coronavirus è 19 E' decimo Ragazzi voglio andare io decimo Ragazzi questi qua piccoli sono dei kamikaze Ragazzi si avvicinano Tipo tu non li vedi neanche Arrivano voi siete morti i stecchiti Siamo persi molte volte Dai come non siamo in top 10 Cazzo in top 10 ci vuole 1110 punti Non mi lagga Non mi Ragazzi guardate come va a tratti ragazzi Mi sta laggando in una maniera di merda Porca troia come mi sono salvato qua Porca troia Regà come mi sono cazzo salvato Non ci provare manco a chiudermelo Non ci provare Non ci provare Eh succhiamelo Eh succhiamelo bello Porca troia E vai al diavolo un po' Mezz'ora che mi sta attaccato il culo Ok ragazzi ci siamo ci siamo Stiamo giocando bene sta partita Wow bellissimo quello con l'app di play store Troppo bello Eh fratello però se vuoi morire dimmelo Non ci sei provare Non ci sei provare C'è l'auto chiuso T'ho chiuso vecchio T'ho chiuso T'ho chiuso Non puoi fare Non puoi fare niente vecchio Non puoi fare niente T'ho T'ho chiuso Perché ero concentratissimo Ho detto cazzo questo si muove troppo Questo adesso faccio un errore sbagliato Questo mi lince No come sei salvato questo No dai dimmi come sei salvato questo Mi è venuto addosso Come sei salvato Sì sì ti lascio mangiare Ragazzi mi sta laggando in una maniera schifosa Ma come faccio a non essere in top 10 Ma me lo dici come faccio a non essere in top 10 Sono quasi 2000 punti cazzo Infatti Ragazzi questo Eh sì c'ho la battiglia a scarica ragazzi Della telecamera Porca puttana 15% Regà Dai veloce Voglio arrivare in top 10 Bomba 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 Ti prego Non mi morire Videocamera Regà non posso con neanche Adesso potrò morire No No Pezzo di merda Pezzo di merda Sei un pezzo di sterco Sei un fottuto pezzo di sterco Regà L'avevo praticamente chiuso Dai Facciamoci sta partita Che pezzo di sterco Questo mi ha rovinato una partita intera Mi ha buttato accesso a una partita intera Porca troia Una partita intera Mi ha buttato accesso C'è il caso di fabicei Grande bomba C'è il caso di fabicei Grande bomba No comunque raga Buttate accesso a una partita intera Porca troia Una partita intera Oh maron Ragazzi proviamo a fare i camicchiazze con questo Ma porca troia Vabbè raga Spero che questo video di slick Te lo io vi sia piaciuto Se è così un bel pollicione Lì su Ragazzi Saluti da Jumbo Ciao Ciao